La condizione dei cristiani nella legge evangelica è la più ricca per la promessa di una felicità non terrena ma celeste. Vediamo se questo stato, tanto illustre per l'onore, abbondi ugualmente per la ricchezza. Di questa parlando l'Apostolo agli Efesini vi concede Dio disse occhi illuminati alla vostra mente affinché sappiate qual sia la speranza della sua vocazione e quali le ricchezze della gloria della sua eredità nei Santi e quale sia la sopraeminente grandezza della virtù di Lui sopra di noi che crediamo. Gli ebrei ebbero nell'antica legge promesse temporali, dovizie terrene, opulenza visibile. Una terra fertile dove scorreva latte e miele, ricche spoglie, copiosi tributi dei loro vinti nemici, le regge dei loro monarchi piene di preziosi tesori d'oro e di gemme e di quanto è più raro al mondo. E ciò con essi era bene poiché erano serbi così Dio pagava prontamente ogni giorno la loro mercede. Noi siamo figli e come tali il nostro Padre Celeste non ci offre già lo stipendio giornaliero che non si confà ma ci prepara l'eredità che ci conviene. Forse perché il mercenario può mostrare sulla mano qualche paga, lo diremo noi più ricco del figlio che aspetta l'eredità cui dice il Padre ogni cosa mia è tua? No, certamente. E se vi è qualcuno anche fra i cristiani che in questa vita stimi più qualche parte di bene presente che la gloria futura, io non mi meraviglio, dicendo Sant'Agostino che nella legge evangelica vi sono moltissimi i quali, cristiani di nome e non di spirito, vivono sotto la legge e non nella grazia e appartengono all'Antico Testamento che genera nella servitù. Quelli poi che appartengono al Nuovo Testamento intendono bene e gustano di udire ciò che ad ognuno di loro grida il medesimo Santo Dottore, non sei chiamato ad abbracciare la terra, ma ad acquistare il cielo, non ad una felicità terrena, ma celeste, non a temporali successi, a prosperità fugaci, ma ad un'eterna vita con gli angeli. Anzi, volentieri odono ancora quel che dice San Paolo. Nessuno si commuove in queste tribolazioni, poiché voi ben sapete che questo è quello per cui noi fummo qua posti, che è quanto dire, questo è quello che ora ci conviene.